Gentili telespettatori, buona giornata. I numeri dicono che Giorgia Meloni ha scritto un best seller. Lei dice e risponde non me lo aspettavo quando la casa editrice mi disse che avrebbe stampato 40.000 copie mi sembravano davvero tante. Oggi ne abbiamo stampate 180.000. Sono riuscita a raccontarmi e molti mi hanno detto che il libro è scritto bene. Mi sono messa la prova. E' piaciuto anche a chi non vota Meloni, perfino ad alcuni scrittori insospettabili. Queste sono le ultime due domande fatte in un'intervista a Giorgia Meloni. Un'intervista fatta proprio ieri, una lunga intervista. Se volete sapere le altre cose sono i due video precedenti a questi. Parlano proprio di questa lunga intervista dove Giorgia Meloni ha parlato di tanti temi. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata.